Kate Middleton riappare in pubblico dopo mesi di assenza, ma tutti notano un particolare inquietante, ecco quale Dopo mesi di assenza Kate Middleton è riapparsa in pubblico e ha posto fine a tutti i rumors sul suo conto Lo scorso gennaio la principessa di Galles si è sottoposta ad un intervento all'addome, poi si è ritirata dalle scene per una lunga convalescenza I gossip sul suo stato di salute sono diventati sempre più insistenti, alimentati anche da alcuni errori di comunicazione dell'ufficio stampa di Kensington Palace Sulla fine marzo la reale ha rivelato di avere un cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva Lady Kate in un video condiviso sui social ha reso nota la sua malattia, ha ammesso di stare meglio, ma di non essere ancora pronta per riprendere gli impegni di corte Ha poi chiesto rispetto e privacy per il momento che lei e la sua famiglia stavano vivendo La stampa inglese ha secondato le richieste della principessa di Galles, che è scomparsa di nuovo Per settimane di lei non si è saputo nulla I tabloid inglese hanno evitato di speculare sulla salute della principessa Oggi la duchessa di Cambridge eri apparsa in pubblico Ha scelto il Trooping Day Color per riabbracciare virtualmente il popolo inglese, ha corso per salutarla La famosa parata militare è una vera istituzione in Inghilterra, viene realizzata per aprire i festeggiamenti dedicati al compleanno del sovrano Per la prima volta Carlo ha spilato in carrozza insieme a Camilla e non a cavallo Kate è arrivata a palazzo di prima mattina insieme ai figli George, Charlotte e Louise ed è stata accolta con un caloroso applauso Kate Middleton bellissima in abito bianco, ma non spugge il dettaglio Per il suo ritorno in scena Kate ha scelto un look sofisticato e chic, un abito bianco con dettagli neri e un fiocco poggiato sulla spalla A completare il look un bellissimo capello con ampia falda, che le copriva il viso, sempre bianco e nero Make-up acqua e sapone e capelli raccolti hanno completato la bellissima immagine della principessa di Galles Kate ha spilato in carrozza con i figli, mentre William, come da protocollo, è giunto a palazzo a cavallo I principi di Galles e Prole erano presenti anche per il saluto di rito dal balcone di Buckingham Palace Kate ha sorriso, è apparsa serena, ma visibilmente dimagrita e in molti hanno notato un dettaglio inaspettato In diverse occasioni l'espressione della principessa è apparsa cupa, seria e preoccupata È evidente che la reale è ancora provata dalla patologia. Noon è ancora fuori pericolo e le cure sono in corso La sua uscita pubblica è solo il primo passo verso un ritorno alla normalità, che non potrà che essere lento e graduale